Tutti parlano, solo il Movimento 5 Stelle cambierà veramente qualcosa. In Europa, ribadisce il parlamentare grillino Roberto Fico, porteremo un vento nuovo. Che vogliamo davvero abolire il fiscal compact, che davvero vogliamo la stampa degli eurobond e che davvero vogliamo creare un'Europa comunitaria. Quest'Europa così com'è non ci rappresenta più e tutte le persone che oggi dicono dal Parlamento che quest'Europa non va più bene sono le stesse persone che hanno votato e ratificato i trattati internazionali che adesso ci stanno uccidendo. L'immigrazione è il problema dei problemi insieme a quello del lavoro. Il vicepresidente della Camera, il 5 Stelle Di Maio, chiede la linea dura dell'Italia e di Bruxelles. Abbiamo un ministro dell'interno che con una certa noscialanza ci dice che stanno arrivando 600.000 immigrati, una popolazione grande quanto il Molise, e l'unica cosa che sanno fare è rispondere agli ordini della Merkel. Io voglio vedere gli aerei dell'Unione Europea che rimpatriano tutti gli immigrati che non hanno diritto d'asilo in questo paese.